Come Ulisse nel canto ventiseiesimo della Divina Commedia, Giuseppe Conte, capo politico del Movimento 5 Stelle, sembra aver girato le spalle al sole attraversato le colonne d'Ercole e pronto ad inabissarsi insieme alla sua compagnia di marinai nel mare cupo e profondo ai piedi della montagna del Purgatorio. Oltre le colonne d'Ercole, comprese quelle politiche, c'è solo la dissoluzione. Sembra questa la deriva scelta da Conte pur di massimizzare il profitto elettorale e le quotazioni in crescita del Movimento. Peccato che con l'isolamento, seppur splendido, non si governano nel paese e nelle regioni e quindi non si incide sulla realtà dei cittadini. La decisione del capo politico dei pentastellati di non fare alleanze con nessuno e in nessun luogo fa scattare l'allarme anche in Molise, dove si voterà a primavera. La prima regione al voto sarà invece il Lazio a febbraio, mentre in Molise l'ipotesi che Tom avrebbe messo già in preventivo è quella del voto a giugno. Ipotesi che andrebbe bene anche ai 5 Stelle molisani, che avrebbero qualche mese a disposizione per far desistere Conte dalla sua impostazione. Sta di fatto che dal PD pensano di sganciarsi da subito da ogni ipotesi di accordo con un compagno di viaggio incapace di dare garanzie e stabilità. I democratici guardano al centro ed è con questa prospettiva che in settimana si terranno due riunioni della direzione regionale, martedì e venerdì. La partita al centro dello schieramento fa scattare anche nel centro-destra l'allarme a consolidare posizioni che invece darebbero in fuga pezzi della coalizione verso una nuova riaggregazione col PD. In questo giocheranno un ruolo importante i nuovi parlamentari che, chiusa la fase di costituzione dei gruppi e composto il governo, dovranno fare attenzione ad evitare una situazione uguale e contraria alle elezioni del 2018. All'epoca il centro-destra perse su tutta la linea le politiche per poi riscattarsi subito dopo alle regionali. Il problema ad oggi è che possa verificarsi l'esatto contrario.